Allora, se star vieillissante non puoi rinforzare, non puoi rinforzare, non puoi rinforzare. Degagio, del ristorante, della mia vita, di tutto, degagio. Pardon? Ti puoi ripetere? Io credo che tutto il mondo ti ha portato là. So! No, se fosse stato per me l'avrei lasciato lì dove era. Con le dive che è in vecchia, non si può parlare, è vero. Vattene, dal ristorante, dalla mia vita, da tutto, vattene. Prego, vuoi ripetere? Mi sa che qualcuno non ti ha sentito. Fuori!